Impiccato perché ritenuto una spia degli Stati Uniti. L'Iran ha giustiziato lo scienziato nucleare Shahram Amiri. L'uomo era sparito nel giugno del 2009 in Arabia Saudita, dove si trovava in pellegrinaggio alla Micca. Era riapparso nel luglio del 2010 negli Stati Uniti, denunciando di essere stato rapito dalla CIA e chiedendo di tornare in Iran. Al suo arrivo era stato trasferito in una località segreta. Questa persona, che ha avuto accesso alle informazioni segrete del nostro paese, era legata al nostro nemico numero uno, gli Stati Uniti. Ha dato al nostro nemico informazioni vitali per il nostro paese. La madre dello scienziato ha detto che il corpo è stato riconsegnato alla città di origine con segni di corda sul collo. Nel 2015 in Iran sono state effettuate almeno 970 esecuzioni.